Ragazzi, 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 benvenuti, benvenuti ad Esperienze Paranormali. Ah no, Esperienze di M? No, abbiamo cambiato. Esperienze PM, dove PM sta per? Paranormal Activity Investigation. M? Mountain. Mountain. Paranormal Activity Investigation Mountain. Applauso. Ragazzi, siamo molto contenti perché finalmente siamo riusciti a fare la cosa che io e Dada sognavamo da tantissimo tempo, ovvero ascoltare la nostra voce. Attraverso una cuffia per parlare sempre più in modo profondo. Voi avete dei problemi perché se vi eccitate sentendo la vostra voce c'è un problema di fondo. No, la voce è altrui. Sì, è altrui. Tu godi sentendo la tua, sentendo quanto è cavernosa, porco Dio, nemmeno neanche gli australopitechi. Dall'altro avete visto quel documentario, cioè quel video su YouTube dove è stata scoperta la voce di Dio. Ah, è vero? Sì. E com'era? Eh, lui praticamente parlava con questa voce dell'alto borgo napoletano, come se fosse tipo il vomerice. Ragazzi, allora andiamo a fare l'ultima cena, c'è anche Giuda. Parlava esattamente così. Chi è che l'ha scoperta? Eh, Totò. Ma Totò di Natale? Totò Rina. Totò Schillacci. Ma prima di iniziare con il video, possiamo un attimo mettere una musica epica, sai quelle là dei monologhi che poi li mettono su TikTok che diventano delle cose incriquate? Avete capito? The Hands Underground Kingdoms. È il primo gioco mobile di strategia a tema formiche. Tipo di Ghia Dada. Pensate che dal suo lancio i suoi download sono stati oltre i 40 milioni. Ma di che cosa si tratta? I giocatori interpretano... I giocatori interpretano... Interpreter... 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 I giocatori interpretano... Non lo sa ci dice... Un signore delle formiche. E il loro obiettivo è quello di guidare la papia regina. Che voce meravigliosa che ho. Esplorare il mondo. Raccogliere risorse. Addestrare l'esercito delle formiche. Io oggi mi sono vestito manco a fare apposta come una formica. Tra l'altro, attraverso il codice di scatto che vi lascio qui sopra in sopra impressione, otterrete dei premi. Proprio perché ci stiamo avvicinando a Natale, perché siamo tutti più buoni, perché la vita è una cosa meravigliosa. Io comunque vi invito a scaricare The Hands United Kingdom e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Totalmente gratuito. È sempre quella cosa, capite, che magari siete in aereo, non sapete a che gioco giocare, ora partite per i viaggi di Natale, dovete andare a Capodanno all'estero e così. Siete in aereo magari, no? E giocate a The Hands. E vi vestite magari anche come me. Mi raccomando. Non fatelo raccontare. Anzi, sei tu che lo racconti agli altri. Dicevamo? Comunque voglio mandare un caloroso abbraccio a tutti i nostri amici di Alquantro Beast, che sono veramente tantissimi, che ogni giorno ci mandano lettere, 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 lettere. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Ci rivedremo presto, forse. Ci rivedremo presto. Abbiamo deciso di postare sul canale Esperienze Paranormali per far vedere anche il nostro lato leggermente più serio, perché non siamo semplicemente dei giulari con delle belle tette. Abbiamo anche un cervello, oltre a questo fisico da top model. E anche perché, se posso permettermi di fare questo collegamento, io e Dad abbiamo avuto molto spesso a che fare con Esperienze Paranormali nell'ultimo anno di vita. Esatto, voi siete state le persone che hanno avuto a che fare con più mostri, fantasmi, spacciatori, spacciatori fantasmi, quelli sono i peggiori. Anche quelli che spacciano e poi spariscono. Sono i peggiori in assoluto. Quindi voi siete anche l'esatta rappresentazione vivente di chi può testimoniare il tutto. E di chi non ci crede, come Riccardo. Esatto, perché se vedete anche questa postazione, questo ordine, non è dato al caso, ma esattamente noi rappresentiamo Inferno, Paradiso e Purgatorio. Perché da una parte abbiamo Riki, che come ti definisci? Che rapporto hai con il paranormale? Credi, non credi? Non credo. Così secco. Non credo, sono una persona molto razionale, quindi mi baso molto su ciò che è dimostrabile scientificamente, perciò il paranormale no. Mentre dall'altra parte abbiamo l'angelo, Angel Daniel, che quella è la tua concezione, il paranormale. Io ci credo. Ecco, giù, di quiz. Allora, io ci credo e quindi sono meno condizionato qualora potessero accadere degli eventi paranormali o rumori, appunto perché ci credo. Quindi magari come ci è capitato a me a Riccardo, in due circostanze, giusto? Sì, ma non mi ricordo il numero preciso, però. Ovviamente io ero, come al solito, quello un po' più calmo, ma appunto perché magari posso aspettarmi una cosa del genere, mentre lui è, come al solito, incominciato a urlare. A bestemmiare. A bestemmiare con acuti che anche Michael Jackson arrivano. Io invece mi pongo nell'esatto mezzo, proprio come il mio rapporto nei confronti della religione. Cioè io sono agnostico, tu sarai ateo evidentemente. Non lo so. Io sono credente. Esatto. Ma quindi tu definisci Gesù Cristo una cosa paranormale? No. Allora, cosa c'entra? In che senso paranormale? Perché cosa c'entra il fatto che sei credente e credi nel paranormale? Se Dio esiste, esiste, punto. Stava facendo l'esempio del... Scusate, devo ancora abituarmi a questi microfoni. No, ma è una cosa a parte quella. Appunto. Non vuol dire credere nel Gesù Cristo. Tu non sei né credente, né credi al paranormale, credi semplicemente... Io credo anche gli alieni, per esempio. Sì, ma tu sei un complottista allora, in generale. Possiamo definirlo un complottista? No, no, non mi defini. Può essere, forse. Dato è particolare perché crede in Dio ma non crede nel Natale. È vero. Io non credo negli addobbi natalizi. Ah, perché invece celebri la messa durante il Natale, sì. Credere in Dio non c'entra niente con l'albero di Natale. Sì, ma non vai a messa. Come no? Il 24 sera vado a messa. Ma vaffanculo, va a cretino. Con tre rosari al collo. Sì, immagino. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Esperenze paranormali. Sì, in questa settimana vi abbiamo chiesto di mandarci in direct a me e non a Ricky e non all'angelo Gabriele qui. L'arcangelo Gabriele. A nostra destra e vi invitiamo a farlo, ovvero raccontateci dei vocali ma raccontateli per bene. Fateci vivere il pathos. Non c'è raccontare il vocale così perché i vocali che verranno selezionati saranno quelli poi anche raccontati meglio perché una storia horror ma raccontata male diventa una barzelletta. Dobbiamo cercare anche di convincere qui l'arcangelo Dis Gabriele che lo ianga e che queste cose poi esistono. Novità, perché se a esperienze di M i vocali vengono selezionati da una redazione di undici toscani, piccolo colpo di scena, chi selezionerà i vocali per esperienze paranormali? Chi è che si è sacrificato per questa causa? O gli apostoli, o undici apostoli. I dodici apostoli. Undici in questo caso perché noi siamo sempre undici, no? Esatto. Ah, con uno in me, Giuda è un apostolo, considerato tale o no? Un ex apostolo. Ex apostolo. Una redazione di undici romani. Bello. Che sono? Che sono? Non sbagliare a questo giro, anche se è la prima volta dovresti sapere. Totti? Giusto? Totti lo sapevo. Casa Monica? Non so chi di loro però uno della famiglia Casa Monica? Casa Monica? I cesaroni, anche se sono in tanti, ma... Cesaroni? Rudi dei cesaroni. Rudi dei cesaroni? Poi? Pensa... Io non conosco, non so collocare le persone in base alla provenienza geografica. De Rossi? De Rossi? Vedi che è difficile così. Pippo Baudo? È romano? Non lo so. Maurizio Costanzo so che è romano. Maurizio Costanzo? Luciano Moggi? Non è romano. Siamo un po' in difficoltà, dovevamo studiare meglio questa cosa. Poi Numa Pompilio, Tarquino Brisco e Romo. E Floriana? Romo! Floriana? Floriana del Grande Fatale. Lei è proprio il capo dei... Pensa che riferimenti culturali che abbiamo, Floriana. Che salutiamo dall'altro? Grande Floriana. Per trovarci poi qui negli studios. Disney Picture Studios. Allora ragazzi, siccome i vocali di oggi sono davvero tantissimi, quanti sono? Sono 115.000. Minchia! Un database di informazioni. Saranno tanto. Io direi di ascoltare subito il primo vocale, la prima storia. Ciao Simo, ciao Enrique, ciao al braccio più tamarro di YouTube Italia. La mia esperienza paranormale risale a qualche giorno fa. Dovevo ricopiare degli appunti per l'università scritti a mano al computer. Quindi ho deciso di utilizzare, siccome erano troppi, la funzione vocale di Google. Quindi io parlavo con delle cuffie e automaticamente tutto veniva scritto al computer. Mentre stavo controllando che una frase era stata scritta in maniera giusta, quindi il microfono era rimasto attivo, ma io non stavo parlando, sono spuntate da sole le parole morta, morta, morta. Inutile dire che ho staccato tutto, sono andato a letto e l'indomani ho ricopiato a mano tutti gli appunti. Allora, io ho la soluzione. Quale? Cioè nel senso che pensi di sapere cosa è successo? Sì. Ma perché hai progettato tu quell'applicazione, semplicemente era quello. E questo è un product placement, trovate il link dell'applicazione per ricopiare i vostri appunti qui sotto. Semplicemente sotto c'era la PlayStation con il gioco Mortal Kombat. Morta, morta, morta. No, non lo so. Perché la intro del gioco fa morta, morta, morta al combat. Esatto. No, però questa qua è una delle mie più grandi paure, no? Perché ora non dico quella parola perché sennò mi si attiva il cordo. Quando dici ehi, non lo diciamo perché sennò mi si attiva e si spegne la ricamera. Ma solo con la tua voce posso dirlo io. Ehi Siri. Esatto. Se lo dicevo io avrò la tua stessa voce così si sarebbe attivato. Quando uno dice, ehi Siri? Si attiva praticamente il recettore vocale del microfono. E la roba che però mi dai più in ansia è che per, se tu lo dici in un punto X della giornata, significa che il tuo telefono è perennemente in ascolto. E certo. Sempre. Cioè non è che si attiva solo quando dici quella parola. Per ascoltare quella parola significa che 24 ore su 24 attiva. E quindi significa che, sai che c'è quella roba che comunque i fantasmi parlano con gli ultrasuoni? Sì, come con gli ultrasuoni. Cioè con i campi elettromagnetici. Cercano di comunicare con i campi elettromagnetici. Comunque essendo un dispositivo elettronico il telefono alla fine, perché, metti caso in quella stanza, magari potrebbe esserci uno spirito, una cosa, una presenza, tramite la comunicazione, tramite i campi elettromagnetici è riuscito a comunicare quelle parole morte, morte, morte. Sì, ma io ti rispondo da non credente di queste cose. Ma perché uno spirito non può parlare di una cosa positiva e necessariamente deve parlare sempre di morte? Ma esistono spiriti buoni. Sì, appunto. Cioè per esempio a Napoli esistono la figura del Omunagiel. Omunagiel sono questi angeli positivi. Omunagiel non era uno di Comorra. Eh, era quello lì con la francetta perché assomigliava alla cosa. Io ne conosco uno, veniva a scuola con me. Omunagiel. Francesco Omunagiel. Però, in teoria... Aspetta, è finita la mia storia. In teoria tu senti uno spirito perché è bloccato. In che senso? In teoria non ci sono gli spiriti. Nel senso, non è che è pieno di spiriti, di persone morte. Eh, quindi? In teoria quando senti un'anima perché è bloccata per qualcosa che è successo. Ma bloccata in che senso? È bloccata nel senso come ieri eravamo in un posto che si dice che ci sia lo spirito di questa persona che è stata uccisa. Sì. Ok? Però bisogna sapere se nel luogo dove stava lui è successo qualcosa. Ovvio. Eh. Ma non è che se senti uno spirito che ti urla. Ciao, come stai? No. Perché in teoria rimangono qui le anime, quelle, come si dice? Quelle dannate? Dannate o comunque con qualcosa di irrisolto, non so, dicono così. Che cazzate, parca sottana. Poi qualcuno prendetemi per scemo, eh. No, vabbè, questa è soltanto. Prendetelo pure per scemo e commentate qui sotto scrivendo un insulto dedicato ad Adda, non troppo volgare. Cerchiamo di modellare i termini. Cioè, senti sempre quelle cose lì? Eh, ma perché? Eh, non lo so. Cioè, non ha senso sta cosa. Voglio capire io chi ha rovinato la mia vita con queste cose qui. Secondo vocale. Seconda storia. Quindi? È uno spirito o semplicemente ha capito, cazzo non so? Io sono totalmente convinto che tramite il linguaggio, tramite elettromagneti, elettrocose che non conosco, sia stato messo comunque in comunicazione e comunque lui c'era questa presenza maligna che ha cercato di comunicare. tramite un dispositivo del genere. Magari lo voleva sempre... Perché esistono anche magari spiriti scherzosi, perché magari sono questi lì dall'eternità, si rompono i coglioni, sai che te faccio cacare addosso e te scrivo morte, morte, morte. Quindi in questo caso lei non era un qualcosa di... magari è stato ucciso in quella stanza, che cavolo non so. Esatto, lui dovrebbe approfondire questa cosa e non... Continuo a chiedergli, cosa è successo nella tua vita allo spirito? Ah, stai parlando con me? No, con il nostro amico. Ah. Continuo ragazzi, secondo me qualcuno si è un po' stessato di me perché non capisco più niente di questi tre minuti. Andiamo avanti. Seconda storia. Seconda storia. Ciao a tutti. È una cosa molto strana che è successa. Purtroppo 8 anni fa è scomparso mio padre. Niente, un giorno noi abbiamo il numero suo ancora salvato nel cellulare con scritto papà. Un giorno mio fratello gli squilla il telefono, una notifica di sms. Lui va a vedere, ci ha scritto papà. Entra nella chat degli sms. L'sms è completamente vuoto con scritto solo data e ora. Non c'era scritto il testo, ma solo la data e l'orario di quando ha ricevuto questo sms. Vuoto. Vi giuro, neanche un puntino c'era scritto. Zero. Non è la prima volta che sento una storia del genere. No, c'è anche appena uscito un film su Netflix tratto da una storia vera di questa cosa. Che film? Non mi ricordo di precisi come si chiama. C'è un ragazzo che riceve i messaggi dal migliore amico morto, gli tiene il telefono e gli continuano ad arrivare le chiamate sul telefono. Che cazzate ragazzi. Come giustifici una roba del genere allora? Tu ti metti sempre nei panni del... Non è assolutamente vero questa cosa perché ci sarà sicuramente una spiegazione, però anche a livello di casistica, di statistica, mettiti magari questa ragazza proprio che ha perso il suo papà otto anni fa, per quale concatenazione infinita di eventi questa cosa può concatenizzarsi? Intanto, cioè nel senso, prima dovrebbe succedere a me una cosa del genere e poi al massimo me la chiedo. Cioè nel senso, lei lo dice ma non abbiamo la certezza che sia vero anche quello che ci sta raccontando. E allora non esistono nemmeno le guerre, e allora non esistono nemmeno le guerre. Perché l'hai mai fatta uno? No, l'hai mai raccontata, ci sono i documenti storici quelli. Ma sai che l'altra volta ho letto questo articolo qui, c'è questa teoria dove dicono che oltre 200 anni di storia sono stati puramente inventati dagli storici e che tipo Giudo Cesare non sia mai esistito. Dove le cazzo le hai letto? Su TikTok? No, no. No, però tu dici finché una cosa non mi capita non ci credo. Però quante cose... Allora Elon Musk non l'hai mai visto, no? Chi ti dice che lui non sia un programma? C'entra. Qua è una persona X che sta mandando un vocale a noi e può anche inventarsi una storia. Se mi parli di una guerra c'è comunque una documentazione storica. Sì, vabbè, però inventare comunque una storia, avventare come soggetto tuo papà che è povero, hai perso otto anni prima, che capisci che è particolare. Mi invento storie magari su cose che ho visto, eccetera, ma non su cose in particolare. Non so come giudicare questa cosa. Voi come la giudichereste? Io sempre per il discorso di prima che secondo me siamo energia alla fine, no? Purtroppo quando non ci saremo più saremo energia che in qualche modo diventeremo non so cosa e diventeremo dei dadda muscosi se mi sa la nuova evoluzione dell'uomo sarà il dadda sapiens sapiens e però con questa roba che comunque tutti diventeremo e siamo energia a tutti gli effetti e ci troviamo a che fare continuamente con dispositivi elettronici. Energia ed elettronica sono qualcosa che comunque vanno di pari passo e qualcosa significa. Non è che il numero di suo padre è semplicemente stato utilizzato da un'altra persona che si sono dimenticati di aver dato la sima ad un'altra persona? Ma no, ma lui in questo caso ha ricevuto un messaggio vuoto. Cioè, i messaggi vuoti non arrivano. Io non ti posso mandare un messaggio privo di testo. No, però non ho capito il passaggio. Puoi inviarci uno screen. per verificare questa cosa? Non ho capito il passaggio però che ha detto che c'era solo una data. Sì, c'era solo la data del messaggio. Sì, perché tu quando mandi un messaggio c'è sempre la data e l'orario. Ah, ok. Però il messaggio è da vuoto. Ok. Come a dire, questa è la data, questa è l'ora, questo è il posto. Sono qui, ma non posso parlarti. In termini non si può mandare un messaggio vuoto. E questa è la roba. Cioè non puoi niente fare invia. Proviamo? Sì. Sì, si può. Si può inviare un messaggio vuoto. Basta fare lo spazio e invii. Quindi la mia teoria prende valore adesso. Eh, perché non può essere inviare. Non può essere. Mi stai mandando dose. Eh, ma non so. T'ho mandato. Che cazzo di concentrazione. Oddio ragazzi, mi ha dato un messaggio. Eh, ma io non sapevo che lo stessi inviando a me. Ho capito, ma mi vedi che non sto scrivendo niente. Mi hai davanti. Comunque, chiediamo una cosa. Non è che questo format è cerchiamo di convincere Ricky finché non molla. Cioè, alla fine noi diciamo le nostre... No, io sto dicendo la mia visione e voi la vostra. Esatto. Ho semplicemente verificato che un messaggio vuoto è inviabile da chiunque. Esatto. Avete ascoltato la mia versione, quella di Dada. Ma soprattutto voi, i vocali che vi segnano di più, qui sotto nei commenti, diteci anche la vostra. Perché magari ci sono persone che hanno vissuto la propria pelle o possono darci una visione differente delle cose che magari io e Dada non abbiamo. Dada mi sta guardando male perché ho dimostrato scientificamente questa cosa. Faccio una domanda che non c'entra niente con il discorso messaggi. Come state? Chi mi ci sbondi anche? Quanto finirà Argentina-Francia? Marcatori esatti? Rimani una sua curiosità del momento che voleva togliersi. In merito al fatto, a quello che ti è caduto nel luogo abbandonato. Ma quale? Quella della casa di ieri? Sia di ieri che comunque c'erano semplicemente delle... Cos'erano? Onde elettromagnetiche, come si chiamano? Sì, delle variazioni di campo elettromagnetico. Esatto. E in base alla prima... Come te lo spieghi? Infatti non mi sono dato una spiegazione. Ma che cosa è successo? Non credendoci. Che faccio? Perché questo vuol dire che non guarda i video. Sgridalo. Ma è uscito ieri? No, è uscito... No, sì, quello là della Casa Rosso dove ho avuto l'attacco di panico. Ah, quello sì. E tu dici ieri. Che cazzo di so? No, ieri abbiamo fatto l'altro. Non abbiamo sentito niente. L'unica motivazione plausibile che mi sono dato... Ma andiamo alla clip. Perché praticamente si illumina. Però il rumore che si sente è un rumore strano. Però l'unica spiegazione è che sia un rumore ambientale ma non capisco di che cosa. Ok. Capito? Però non sembra un rumore ambientale. E quindi tu giustifichi la cosa con un rumore ambientale. Non continui a credere? No, non continuo a credere. Ok. Cioè nel senso lì per lì mi viene in attacco di panico perché io lì per lì penso a svariate cose. Il tipo cazzo c'è una persona reale dentro e non ce ne siamo accorti. Anche questa è un'ipotesi. Ok. Non per forza uno spirito, capito? A me spaventatebbe di più sapere che lì c'è uno spirito piuttosto che un essere umano, sinceramente. Ma gli spiriti alla fine non è che ti fanno male. Una persona umana si... Poi tra l'altro quella cosa lì era legata al fatto che si era avvicinato a noi un tipo nel buio più totale con il fuoristrada. Quindi lì ho pensato cazzo magari è lui che è entrato e ci vuole fare qualcosa. Ok. Semplicemente quello. Va bene, niente ragazzi. Riccardo non ci crede finché... Non è che dobbiamo convincere lui? Siamo qui semplicemente per analizzare le cose. No, 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 io sto facendo questo programma. Quindi voi pensate che sia stato suo padre veramente? Non ho capito. A me piace pensarlo. E perché ti piace pensare questa cosa? Cioè perché provi gusto? Perché c'è sempre questo punto interrogativo, questa domanda alla quale non avremo mai una risposta di quello che ci sarà dopo e sapere che in qualche modo, anche chi non c'è più, in qualche modo può essere qui è quella pacca sulla spalla che noi esseri umani, spaventati dalla vita, abbiamo bisogno di sapere. Il preambolo di questo messaggio è studio esoterismo e religioni pagane da ormai più di dieci anni. Faccia un po' lei, se mi cita. Allora, io ho sempre avuto una grande sensibilità a film proprio da bambina verso diciamo quelle che potrebbero essere chiamate anime, energie appartenenti a persone che non ci sono più. Tant'è che una volta, quando ero in tipo in seconda terza elementare, una delle mie maestre voleva procedere legalmente contro i miei genitori perché pensavano che in qualche modo la stessero stalkerando perché io continuavo a dirle che il nome di una sua bisnonna la salutava, ma più che altro perché io sentivo e percepivo questa donna, nome e cognome e tutto quanto, io riferivo alla maestra, guarda che ti saluta. E poi qualche anno dopo, tra l'altro, una mia prozia che non avevo praticamente mai conosciuto morì e mi lasciò dai suoi diari scoprendo che era una strega. E io da lì in poi, quando avevo undici anni, ho iniziato a studiare esoterismo e tutto quello che c'è intorno alle religioni pagane. Essendo che appunto io studio esoterismo in generale, tutto quello che c'è intorno da anni e anni, sono sempre stata la Ghostbusters dei miei amici e mi chiamavano a casa tipo ah c'è questo problema, secondo me è un fantasma, poi in realtà io essendo iperrazionale su dieci volte otto ho trovato il problema reale, che magari era qualcosa incastrato in una ventola o una porta che faceva dei rumori inquietanti. Però una volta non sono riuscita proprio a trovare, diciamo, in realtà spiegazioni razionali perché di spiegazioni non razionali ce n'erano un po'. Una mia amica continuava a dirmi che si svegliava con questi lividi e graffi sul corpo. Io ovviamente ho subito pensato che lei nel sonno si muovesse talmente tanto da farsene da sola. Vado lì, lei ovviamente si addormenta, io devo aspettare la notte un po' sveglia per capire cosa succede. La temperatura nella stanza era calata di quasi dieci gradi e lei continuava a parlare nel sonno dicendo cose incredibilmente inquietanti. Voglio dire che ho provveduto il prima possibile a iniziare tutti i vari quelli che vengono considerati i riti di purificazione. Per quanto lei comunque continuasse a dire, non so se posso dirle effettivamente a YouTube, potrebbe bannare tantissimo, però minacce fisiche nei miei confronti ma anche insulti, parole incredibilmente blasfeme. Io non credo nelle possessioni demoniache, infatti quello che penso che più lei stava sperimentando era di fatto qualcosa che potrebbe essere come durante il sonno stava incontrando qualche entità poco carina. E in quel momento mi sono resa conto che lei tra l'altro era completamente rigida, quindi anche tutti quei segni che aveva addosso era complicato e ho dovuto fare tutti i riti di purificazione e da lì in poi lei non ha avuto problemi in realtà. Allora, qua ci sono tanti pro e tanti contro secondo me. In che senso? Cioè perché, per esempio, un dato oggettivo basato su testimonianze, ok? Quindi quando si verificano esperienze paranormali, però succede spesso una determinata cosa, come in questo caso l'abbassamento della temperatura, perché spesso si sente che quando viene in contatto con ipotetiche anime o situazioni comunque paranormali o comunque di entità di robe particolari, la prima cosa che succede è questo abbassamento repentino della temperatura. Sì, c'è una corrente, oppure correnti freddi, dicono. Sì, che magari ti oltrepassa questo vento freddo che senti all'interno. Però allo stesso tempo questo potrebbe essere... Io non lo so, io sono molto scettico sul discorso delle possessioni demoniche, cioè che qualcuno si impossessi del tuo corpo. A me sta roba qui mi manda fuori di testa, perché l'idea è che qualcuno si possa impossessare di me. Quindi significa che oggettivamente un'anima negativa entra dentro di te e prende il controllo della tua vita, no? È una roba che mi manda fuori di testa. Anche se, tipo in tutte quelle tribù dell'altra parte del mondo, si fanno dei riti che sono... Gli sciamani. Esatto, che sono cento volte più particolari, più forti. Non c'entra niente con il demone o il satanismo o impossessarsi del corpo. No, però tante volte lì fanno dei riti proprio particolari per liberarti da questo demone negativo che tu hai all'interno del tuo corpo, no? Pure facendoti bere delle cose assurde che ti mandano totalmente poi fuori di testa. Tu credi delle possessioni? Cioè, credi che comunque qualcuno si possa impossessare del tuo corpo? Ci credo... Credo, ma non ci credo. Che senso? Che hai mai visto delle immagini vere su queste cose? No, mai viste. Ma perché non dici che non le hai mai trovate? No, non le hai mai viste. Cioè, nel senso... Ci sono dei video, tu li mi visti reali, su... Potete che... Solo uno mi è capitato di vedere, non me la spiego questa. Occhio. C'è un video, davvero, perché era una partita di calcio, dove un giocatore... Capriole. Sì, un giocatore è stato male e ha iniziato a fare tipo 40 capriole di seguito. Non sto scherzando, c'è il video. Mettilo se vuoi. E dicono che lì si... Che abbia subito un tipo... Una sorta di possessione lì. Ma capriole è tipo salti mortali, no? No, all'indietro. Inspiegabili. Inspiegabili, si contorceva... Non sto scherzando. Tipo Oba Oba Martins, ma all'indietro. Sì, ma non fatte bene. Cioè, non è un atleta. Cioè, come se il suo corpo fosse posseduto da qualcun altro e venisse controllato da qualcun altro. Dai, come se stesse... No, ma sembra... Tu sai quei bug nei videogiochi? Sembra quasi un video tirato all'indietro. Sì, è vero. Vero? Lì sembra veramente che qualcuno sia impossessato di lui, cavolo, eh? Poi oggi ci siamo domani, grazie ad altri. Parca Giuda. Comunque io ho visto video di esorcismi, poi non si sa se sono veri, eccetera. Ci credo, ma non ci voglio credere perché mi spaventa la cosa. Tipo, non credi all'esorcista, il film? Nemmeno se c'è scritto il tratto da una storia vera. Sì. Non sono tratti da una storia vera. All'esorcista, no? Ma non è solo schermo del vero, eh? Sì, l'esorcista, sì. Ma va, ti pare? Che storia vera è l'esorcista? Una bambina che esce dal televisore? Quella è The Ring. Ah, The Ring. Andiamo avanti, va. Ma poi scusa, guarda che non è sempre verificato solo perché c'è scritto il tratto da una storia vera. Il fatto successo riguarda un fatto successo una notte l'anno scorso a casa mia. Stavo dormendo quando verso le tre e mezza, quattro, mi alzo per poter andare in bagno. Rivado a letto e mi capita, non so se ne avete già sentito parlare, la paralisi del sonno. Praticamente mi rimetto a letto, una mezz'oretta dopo mi rialzo, ma apro soltanto gli occhi, non riesco a muovere il corpo. E con la luce spenta e soffusa vedo in fondo la porta un'ombra nera con il braccio che sfiorava il letto. E con questa paralisi non riuscivo a muovermi. Dopo, non sto scherzando, un sette, otto minuti a vedere quest'ombra e non riuscire a gridare. Dopo un po' il corpo si riaddormenta e mi risveglia alle otto come se nulla fosse successo. Vabbè, qui secondo me... Con due cose diverse. Sì, nel senso... Io soffro di paralisi nel sonno. Sì, ma questo non è una cosa paranormale. No, però il paranormale è sotto un certo punto di vista. Nel senso, io sono due anni, barra tre, dal covid in poi praticamente, che soffro di paralisi nel sonno. Nel senso che mi capita un'infinità di volte, soprattutto quando mi addormento il pomeriggio, di svegliarmi ma non riuscirmi ad alzare dal letto. Nel senso, sono conscio di quello che sta succedendo, però non riesco a compiere azioni. Infatti sono tre anni che io, pure se mi addormento il pomeriggio per fare un pisolino, sono obbligato a mettere la sveglia, tipo quella lì che si ripete all'infino dell'iPhone, perché senza di quello io non mi riuscirei più a svegliare. Perché la sveglia è quella roba ripetitiva che comunque ti dà accesso ad uscire fuori da quella zona morta che sei in quella fase di paralisi. E quindi io senza svegliere non mi riuscirei mai a svegliare. Però mi sono informato su che cosa succede quando c'è la paralisi nel sonno, perché molto spesso sei a metà tra la fase REM, quindi quella fase dove sei totalmente addormentato, è quando poi ti svegli, no? E quindi praticamente c'è quella parte del tuo cervello che... Lui perché vedeva queste cose? Perché anche a me è capitato spesso di vedere cose che poi nella fattispecie non esistono, perché si attiva poi una parte del tuo cervello, che è quella lì dei sogni. La parte onirica, la parte del sogno proprio. E quindi però la roba assurda è che è come se tu materializzassi per assurdo il sogno, quella roba che comunque hai in testa e lo vedi vividamente. Cioè per esempio vedi a lui adesso è capitato di vedere una figura, un volto di un signore, una roba così, perché era all'interno poi della sua costeccia e del cervello, ed è una roba orribile. Ma chi soffre di paralisi nel sonno tipicamente ha le visioni nello stesso momento e non riesce a reagire a quello che vede. Ed è orribile, perché è come se fossi... Anzi, io ho letto che solitamente questi soggetti sentono una pressione anche sul petto, o anche sullo stomaco. No, a me non mi è mai capitato. Dieci anni fa mi capitava spesso. Sì. Però poi non me ne sono preoccupato. Perché dieci anni fa fumavi le canne come un bastardo, quella è la motivazione. Vedevi i draghi, vedevi... No, non vedevo niente, a me succedeva sempre che ero a letto e non riuscivo... Trattata da una storia vera, Shrek, tra l'altro. Esatto. Che ero a letto e non riuscivo a muovermi. Eh. Sempre al buio, però mi succedeva. Sì, ma durante il sonno... Durante il sonno, cioè, dicono anche che sia... No, vabbè... Fa parte del sonnambulismo. No, no, io quello... E Ricky sostiene che io sono il sonnambulismo perché una volta in sei urlato è questa una gamba di mummia. Eh, quello è vero, però. Eh, sì. Quello è assurdo. All'interno di quello, comunque, io non soffro di paralisi del sonno, soffro di quella sensazione di impotenza tipica dell'esperienza onirica. Cioè, nel senso, quando vivi una situazione di pericolo, tendenzialmente durante un sogno tu non riesci a reagire. Come quando provi a scappare ma sei più lento del normale. Quella è una sensazione che è tipica. Tipo quell'impotenza quando nei sogni sei in pericolo, devi scappare, ma non riesci a correre e senti questa pressione qui sul petto. Esatto. Tra l'altro io faccio lo stesso sogno tantissime volte, ma da anni, ed è tipo che sono inseguito da una tribù di indiani nel campo di mio nonno dove andavo da piccolo, non so per quale motivo, e non riesco mai a scappare. Sono sempre più lento e mi prendono sempre. Chissà che cosa significa. C'è qualcuno qui sotto, secondo questo video, che è in grado di interpretare questo sogno che Righi ci è nata da anni. È la prima cosa che mi ha raccontato prima del suo nome. Sì, anch'io l'ho conosciuto a calcio. Al solito uno gli dice che ruolo fai, e lui invece si è presentato. Sogno ogni sera agli indiani che mi rincuorrono. È il mio biglietto da visita, ragazzi. Cazzo. Secondo me devi fare una di quelle cose che torni, l'ipnosi che torni al giorno del parto. Solo lì capirai realmente che cosa si c'è dietro di questo mistero degli indiani. Però la vera domanda è perché fai da tre anni il pisolino pomeridiano? Esatto. E' quello il problema. Devi levare il pisolino poverino. Ma infatti vorrei evitare... Perché sono svegliati prima? Quando mi sveglio alle otto e mezza, poi alle cinque sono stanchissimo, e quindi un'ora mi addormento. Però ieri mi sono addormentato, dalle quattro alle cinque ho messo a sveglia, e sono rimasto in quella fase di impotenza che non riuscivo a sollevarmi fino alle cinque e quarantacinque. Quarantacinque mi dico sia stato. Perché tanto un'ora? Devi fare il pisolino di venti minuti, al massimo trenta. Venti minuti e... Io di notte dormo un'ora e poi il riposino faccio di un minuto. Infatti sono sempre stanchissimo. Questa storia inizia con Io punto sul paranormale sentimentale. Ecco la storia. Ascoltiamo. Ciao Simo, ciao Riki, ciao Datta. La mia storia è paranormale ma è abbastanza sentimentale nel senso che si è riferita ad una persona che non c'è più e non c'è più ormai da trent'anni cioè l'unico nonno che io non ho mai conosciuto perché è morto tre mesi prima che io nascessi. Nonostante questo mi sembra di averlo avuto accanto tutta la vita nel senso che se lo penso mi sembra di averlo avuto accanto insomma in ogni traguardo raggiunto e mi sembra di conoscerlo benissimo nonostante io appunto non l'abbiamo mai visto né mai conosciuto. Comunque un giorno io abito nella bassa brisciana e quindi capite che le zone sono molto isolate e in mezzo ai campi. Scusate se ci vedete ridere perché... No perché... Cioè non avevo capito che pensavo ti fossero arrivati i miei messaggi adesso. No perché sul telefono ci ha salvato Riki come quindi è uscito a stare schermata e ci ha fatto ridere non stavamo ridendo della storia. Premetto che non fumo e premetto che nessuna delle persone accanto a me fuma quindi l'odore di fumo non poteva circondare né me né la mia macchina. Sta di fatto che entro in macchina e dopo dieci ore che è parcheggiata fuori dal mio posto di lavoro e sento questo odore pesantissimo di fumo ma fastidioso tant'è che ho pensato Dio ma c'è solo macchina mi va a fuoco la macchina invece poi no è proprio odore di sigaretta in quel momento non so perché ho sentito odore di sigaretta mille altre volte nella mia vita milioni di altre volte nella mia vita ma mai ho pensato a mio nonno il pensiero è andato lì è andato a mio nonno è andato lì probabilmente perché è una vita che mi raccontano che mio nonno fumava le nazionali senza filtro quindi c'è le sigarette che avevano quell'odore inconfondibile e pesantissimo e ne fumava veramente tante tante che mi raccontano che in casa dei miei nonni c'era sta cappa di fumo sul soffitto che è inconfondibile talmente erano tante le sigarette che fumava durante il giorno quindi salgo in macchina sento questo odore e come una deficiente perché mi sono reputata così in quel momento dico nonno cosa ci fai qua e poi mi fermo e dico oddio Michela che cazzo dici perché ti stai parlando con una persona che è morta 30 anni fa e senza alcun motivo apparente vabbè tiro giù i miei finestrini parto per tornare a casa ho circa mezz'ora di strada dal mio posto di lavoro a casa durante il tragitto continuo a pensarci dico cazzo ma perché Michela avresti potuto pensare non so che qualcuno era salito che qualcuno era passato non so perché a te il pensione è andato è andato a tuo nonno continuo a parlare a pensare pensare finché non mi viene da frenare in macchina io non so perché in quel momento mi è venuto da frenare andava era una specialità tangenziale un rettilineo ma era era sera tardi quindi davanti a me e dietro di me non avevo assolutamente nessuno e neanche stai un po' un attimo ogni tanto mi entra il suono in cuffia anche a me anche a me perché? come è possibile? se si sente solo da qua ah forse perché l'audio arriva al microfono che ti entra in cuffia ma come fa ad arrivare al microfono? eh non so impossibile se tu fai il rumore qua non è che lo senti anche a me mi è entrato sì che lo senti prima adesso è qua a sinistra io ti faccio lo senti? ma qua eh ma può darsi che arrivi ma non può arrivare non è direzionale è solo per podcast non è direzionale sì ma lo senti lontano cioè è come se venisse da qua no qua lo senti forte a volte eh ci sta succedendo anche a noi una cosa paranormale se vedeva io ho sentito proprio che che entra in cuffia e poi riesce no ma da destra a sinistra è passata no no quello non l'ho sentito a me dall'alto al basso a me dall'alto a sinistra in basso a destra nell'altra curiosità in quel momento sopraggiungevano macchine quindi non so perché è come se qualcuno mi avesse detto frena da un momento all'altro frena io ho frenato e sono arrivata sono passata da un andare a 100 all'ora andare a un 50 all'ora in pochissimi secondi sono passati io non so dirti quanti secondi perché questa cosa mi ha spaventato molto e diciamo le tempistiche le ho un po' rimosse ma dall'altra parte una macchina ha superato un furgoncino e praticamente me la sono trovata davanti me la sono trovata davanti e è passato tra me e la macchina io ho chiuso gli occhi ho sferzato per quanto possibile a destra sempre evitando di schiantarmi contro il guardrail o ma non so sarà passato un foglio di carta tra me e l'altra macchina ma neppure un foglio di carta e se io non avessi frenato pochi secondi prima nonostante non ne avessi la motivazione sicuramente avremmo fatto un mega frontalone sicuramente non saremo qua né io né l'altra persona a parlarne alla velocità vista la velocità a cui sopraggiungeva lui non ho avuto la reazione la prontezza né di suonare né di fare nulla se non proseguire la mia marcia passo lento mi sono scoppiata a piangere panico e mi sono spaventata tantissimo riprese un attimo le mie facoltà mentali ho iniziato a pensare e durante l'ultimo pezzo di tragitto dicevo che insomma non è che magari sei stato tu nonno a farmi frenare poi ho detto vabbè Michele aspetti da fare la deficiente e vabbè scoppiata a piangere di nuovo torno a casa dai miei entro in casa racconto tutto panico vedo mio papà un po' ascioccato che mi dice ah e questo nonno era il papà di mio papà e mi fa guarda Michela dieci minuti fa quindi nel momento in cui era successo il tutto ero in camera da letto che cercavo da dove proveniva quell'odore pesantissimo di sigaretta e in caso nessuno fuma di sigaretta che sentivo in camera e non riuscivo a capire da dove veniva tra sono stato lì dieci minuti a cercare da dove provenisse questo cazzo di odore era praticamente io ho sentito l'odore e nello stesso momento in cui è successo tutto il patatrack con le macchine lui ha sentito l'odore di sigaretta in camera lo stesso odore pesante è un po' di pianti anche da parte sua che comunque crede fermamente a queste cose cerco di essere un po' razionale nonostante io sia l'irrazionalità fatta a persona di fatto che chiamo i miei amici dico guarda stasera usciamo io però non me la sento di guidare quindi spiego brevemente l'accaduto ma non mi soffermo nei dettagli dico per favore passatemi a prendere mi passano a prendere da casa mia al posto in cui dovevamo andare ci saranno circa quindici minuti mi vengono a prendere e per dieci minuti mi anche gli racconto tutto quello che è successo quindi io ancora abbastanza scossa spaventata loro mi ascoltano però non mi chiaramente crederci o qualcosa del genere dici va bene magari è un caso l'hai sentito ok è un caso poi che l'ha sentito anche tuo papà finita arriviamo ad un passaggio a livello ci sono giù le sbarre del treno e niente racconto dico vabbè comunque sono strascioccata io sono convinta che fosse lui non c'è niente da fare e i miei amici non fumano nessuno di loro fuma era inverno e c'era acceso il riscaldamento nel raccontare ad una certa comincio a sentire l'otore di fumo lo stesso l'otore di fumo che ho sentito in macchina cioè mi viene la pelle calcola che io ti sto parlando e ho la pelle doc ancora che è un po' di emozione che viene su ne stavo parlando sento l'otore di sigaretta però per non fare la parte della pazza fobica evito di dirlo e vedo il mio amico che si gira e mi dice ma lo senti? vedo un attimo le facce impanicate che dicono ma da dove cazzo viene questo odore io panico giù a piangere un'altra volta non lo so non lo so e nel momento in cui tutti abbiamo detto che odore di sigaretta è sceso il gelo in macchina il gelo avevamo tutti la pelle d'oca c'era un freddo glaciale ha smesso di uscire l'aria calda e ci sembrava che dal centro della macchina avevamo tutti la parte della faccia che era di volta verso il centro della macchina gelata a una certa è passato da un momento all'altro l'odore di sigaretta ed è passato da un momento all'altro il freddo ed è ritornato il caldo in pochi secondi e niente tutta sera nessuno più proferito parole nessuno più spiaccicato parole perché siamo rimasti tutti scioccati e quindi in quel momento ho detto guarda non ho capito che sei stato tu ti ringrazio però anche meno perché mi stai un po' spaventando quindi anche basta bellissima storia una bellissima storia queste sono le storie che mi piacciono perché sono le storie non lo so perché hanno hanno dei sim c'è del simbolismo ci sono delle immagini delle cose lei diceva che c'era questo nonno che fumava queste le nazionali sigarette dei muratori sardi secondo me quelle che si fumavano una volta i muratori sardi i muratori sardi fumano quelle lo sai benissimo opportuno non fare finta di nulla però è meraviglioso come il simbolismo in questo caso vedi la componente del fumo come se lui per potersi far notare come il suo segno contraddistintivo il suo segno distintivo contraddistintivo come dice? distintivo il suo segno distintivo forse proprio il fumo come se sentissi un odore fortissimo di di pollo quando Dada non ci sarà più dico dico Daniel are you here? mi parla in inglese secondo me aveva parlato in inglese un giorno quando venderei cripto in America parlerei solo in inglese però vedi qui c'è anche quella cosa di cui stavamo parlando precedentemente del freddo del gelo improvviso come quando questi sono in macchina magari c'è uno dietro una sinistra esattamente al centro sentono questo freddo imprevisto l'aria calda che si spegne e questo odore forte di sigarette lei che evita l'incidente a proposito dico tra l'altro giorno ora mi è venuta in mente questa cosa pensando a questo io qualche giorno ho dischiato di distruggere la mia macchina così per fare cosa? venire qui a girare il video dove beviamo l'assenzio dopo è prima è successo ovviamente è successo distrutte a uno stop non mi sono fermato perché avendo fatto la patente a Napoli non conosco ancora benissimo i segnali stradali quindi doppio senso di marcia pensavo fosse senso unico guardo sulla destra vado avanti e sai che cosa mi sono appena ricordato? no che guardando sulla destra sai che io ti dicevo non mi ricordo del perché io ho frenato guardavo a destra ho accelerato ma non ho visto la macchina che veniva da sinistra io guardando a destra c'erano due signori sai che ci sono quei pali piccoli no sui marciapiedi quei pali di ferro come si chiama? i paletti i pali di ferro e c'erano due signori uno era appoggiato che stava parlando con l'altro e uno dei due era un giovane e un anziano il giovane che era appoggiato così al paletto mi fa mi fa così mi fa così te lo giuro che cosa vuol dire? mi fa così e io e tu e io così ho fatto così in un frangente di secondo tutte le cose che devi guardare hai visto le sopracciglia del signore no ma perché stavo guardando a destra questo stava sull'estisce sai quei paletti stanno sempre a dito sull'estisce e lui mi fa tipo così come di occhio solo così mi fa e chi rappresentava lui nella tua vita secondo te? no no che doveva essere qualcuno però però guarda caso io ho fatto questa roba qui dove ho attraversato la strada così ho inchiodato non so tempo zero e io ho beccato per la macchina davanti perché l'ho beccata e inspiegabilmente non è successo niente niente vabbè ma questo non c'è niente col paranormale questo è culo questo è culo questo è culo e basta sì cosa vuoi dire su questa storia perché a te piacciono anche tutto questo simbolismo è una storia è una storia molto personale comunque sono delle sensazioni che uno può provare magari anche col subconscio sì esatto secondo me la mente fa molto testa capito quanta suggestione c'è magari in determinate cose però è strano che la suggestione sia contemporaneamente in due persone chi intendi come seconda persona non c'era anche l'altro che sentiva il fumo sì tuo padre sì e poi quelli in macchina appunto cioè la suggestione è personale nella tua mente come fa un'altra persona a sentire la tua stessa sensazione è strana sta cosa è strana però uno può essere cioè tu mi puoi suggestionare col racconto che mi dici sì sì quello sì però cazzo l'odore di sigaretta è difficile è una cosa è una famiglia dove nessuno fuma appunto più alto ma poi è una cosa che può portare solo a quello il pensiero ma poi l'odore è particolare di quelle sigarette poi poi sai che si dice che quando entra padre più in stanza si sente questo odore di rose fortissimo di? di rose rose come rose? rose non sapevo io neanche io cioè avevo questa mia compagna di classe l'unica ragazza che andava in classe con me tipo perso non mi ricordo chi familiare fosse il suo padre eccetera eccetera e il momento esatto in cui il suo familiare esalò all'ultimo respiro si sentì questo gli amminoacidi la pillola del giorno dopo scusami si sentì questo fortissimo odore di rose che invase la stanza e si dice che quando si sente questo fortissimo odore intenso di rose è perché è entrato padre più in stanza applauso padre più va beh quindi voi credete io sì anche al fatto dell'incidente evitato grazie al nonno sì non lo so e beh mi è venuto in mente perché il tipo mi ha fatto così mi ha fatto evitare non so se fosse suo nonno lasciamola questa per favore sì ci è arrivato anche un video eh ci è arrivato un video finalmente infatti video voglio video voglio dimostrazioni vediamo vediamo cosa non l'ho visto questa è una cosa nostra non l'ho visto perché figurate ero le 11 di sera per il video mi cagavo addosso non so che cosa ci abbiamo mandato vediamo però non c'è un pene qualcosa del genere cos'è non so se posso è un cane morto no sì è un cane morto è un gatto morto guarda che i cagnotti sono morti sono queste robe piante che vedi neri ah sì hai ragione ti erano a toccare ma sei fuori cosa è più grande di qua in altre stanze ma che sono quelle cose vicine perché i verni morti che cazzo mi sono guarda ciao 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 ah ma qua è tutto il deposito che c'è ma c'è qua c'è vabbè lì c'è l'altra stanza niente ma perché vabbè non è parola è semplicemente morto un gatto in un posto abbandonato cosa vuol dire adesso e che ne so gli undici domani hanno magari pensavano che fosse sei appena rovinato la giornata per niente ci hai fatto vedere cadaveri di gatti hanno selezionato male i video stavolta i romani secondo me è stato Floriana andiamo avanti ciao volevo raccontare la mia esperienza parola normale ovvero che un giorno ero in macchina con mia mamma stavamo attraversando un ponte per tornare a casa e da questo ponte spunta da nulla un signore in mezzo alla strada mia mamma frena di colpo appena alza lo sguardo però questo signore era sparito né nulla lei è anche scesa per vedere magari si è buttato sotto non lo so però non non c'era più poi subito dopo appena arrivati a casa vicino a casa mia c'è il cartello dei morti e mamma ha visto l'immagine di questo signore lì nel senso noi abbiamo visto un fantasma a me è successa una cosa simile da ciò che ci penso cioè non proprio simile però mi è successa una cosa strana mi è successa una cosa strana che mi è venuta in mente adesso sentendo questa storia ero in gita a Parigi e io e un mio amico ci facciamo scattare una foto eravamo nel ghetto ebraico tipo di Parigi e ci facciamo scattare una foto ma vicinissima del tipo fotocamera qui voi due siete io e il mio amico così quindi non poteva succedere nulla in mezzo tra di noi scattiamo e nella foto c'è la testa di un signore che mossa come se stesse camminando davanti a noi e quello non ce lo siamo mai spiegati e non c'era alle vostre spalle era tra noi e chi scattava la foto era davanti a noi infatti ci sembrava strano sta cosa cioè voi avete fatto la foto e c'era qualcuno davanti esatto abbiamo fatto la foto a questa distanza più o meno e c'era la testa di un signore come fosse passato davanti a noi però effettivamente quando abbiamo fatto la foto o non ci ricordavamo che fosse passato qualcuno o comunque non è passato nessuno e cazzo perché giù ti ricordi se passa qualcuno infatti ma era strano perché non è che era una foto distante 50 metri era proprio attaccata la foto e questo come te lo spieghi non me lo sono spiegato no devi spiegartelo vedi perché finché c'è un un'applausibile motivazione lui tende a darla però quando non c'è non si interroga di chi no no mi interrogo cerco sempre di dare una spiegazione scientifica ma non trovandola non so come che spiegazione darmi non è che posso dire a Parigi non c'è sta foto è vecchissima e allora come facciamo a crederti come hai detto tu prima vabbè non credeteci che cazzo me ne frega a me hai intendo tutto il discorso per dire una minchiata un pazzo bello tu invece se mi è mai successo qualcosa del genere no però sono molte storie queste anno ma perché io ci credo chi ci crede a chi crede non succede mai nulla capito ma vaffanculo non è vero sì e no allora perché dovresti crederci se avresti un pirla in che senso dovresti essere condizionato almeno da un'esperienza della tua vita allora dici allora ci credo no ma perché secondo me possono esistere fantasmi ah quindi è ancora peggio se ci credi non ti è mai successo nulla perché sei uno scellerato non mi è mai successo nulla di così eclatante come magari può essere allora perché ci credi perché ci credo sulla base di cosa sulla base di che ti piace il mistero ti piace questa cosa ti piace che è possibile che rimangano anime nel pianeta Terra ma vaffanculo 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 è arrivato ma vaffanculo il profeta è sceso dalla montagna e vaffanculo è così è ecco Giuda hai mai visto il film Ghost sì guardalo hai mai visto il film Ghost sì guardalo ma che cazzo vuol dire penultimo vocale ma non per ordine di paranormale ah per ordine ah ok ciao Awed ciao Ricky e ciao da Ditez vi racconto la mia storia paranormale che è già la prima cosa paranormale è appena successa da Ditez è il nome di di satana in sardo sardo ebraico i miei genitori i miei genitori si sono lasciati e mio padre va via di casa e qualche giorno dopo sulla gamba del nostro tavolo spunta un viso familiare ma non cioè comunque sembrava uno scarabocchio allora decidiamo di grattarlo per toglierlo perché faceva un po' impressione e qualche giorno dopo ci accorgiamo che questo viso assomigliava alla faccia di mio papà allora continuiamo a sfregare fino a toglierlo perché non volevamo averlo lì faceva davvero impressione e una settimana dopo ci accorgiamo che non sto ridendo per la storia sto ridendo per le notifiche che ti stanno arrivando sei l'unica persona al mondo rimasta su Ask che si fa fare ancora le domande in anonimo il viso era di nuovo come prima si erano tolti tutti gli scarabocchi e i taglietti che avevano fatto e era tornato uguale e identica che paura oh ti giuro prima che bestemmiasse stavo per dire non so ha un tono di voce non tanto credibile rispetto alle storie di prima sinceramente tipo anche quello del nonno è stata molto dettagliata come cosa questo è stato un po' così fino a se stessa lui è fatto è semplicemente fatto è una spiegazione ma com'è tuo padre per carità ci dispiace che tu abbiano divorziato ma via di casa è appare il volto del padre sulla gamba a sedia non c'entra niente col paranormale semplicemente suo padre è un palegname no è uno scultore la sera mentre tutti dormono lui entra in casa e fa il volto anche perché non si spiega che prima non sembra niente e poi dopo un giorno sembra suo padre che cosa significa è come quando guardi le nuvole più fissi qualcosa più gli dai la forma si è vero è la tua mente che sta plasmando in realtà l'immagine perché in realtà non esiste è semplicemente suggestione tutto questo è un progetto di Elon Musk ascoltiamo l'ultimo vocale allora questa è una storia parola normale che mi ha raccontato mia sorella che è vera e praticamente un giorno si trovava sua sorella è vera la storia? non lo so dipende dai punti di vista stava in moschea perché appunto siamo musulmane e vabbè un giorno stava in moschea e vabbè in moschea sono cioè gli spazi sono divisi tra quelle da uomo e quelle da donna e lei appunto è entrata in quella da donna tutto normale iniziano a pregare e ad un certo punto una ragazza una donna sui 25 anni inizia ad urlare e inizia ad urlare e inizialmente appunto non capiscono cosa sta succedendo ma poi appunto si accorsero che c'è della voce della ragazza si accorsero che era stata appena posseduta da un demone perché appunto immanava urlava con una voce da uomo e si è fatto che le donne che c'erano vicino a lei che pregavano si spaventarono quindi chiamarono questo imam che è tipo il mendicante delle preghiere tipo un prete e si è fatto che chiamano l'imam e iniziano a coprirla con un telo bianco così che appunto il demone dentro lei non poteva vedere quello che succedeva e l'imam iniziava a dire qualche verso del corano e allo stesso tempo cioè quando l'imam leggeva i versi del corano la ragazza iniziava tipo a scalciare e questa cosa poi dopo un po' è finita e mia sorella è tornata a casa mi ha raccontato e sono rimasta traumatizzata un applauso a Iman un applauso a Ivan il mendicante delle preghiere a Ivan Zazzadoni allora una storia di fine se stesse questo è un racconto di un racconto cioè non l'ha vissuto nemmeno in prima persona no però sua sorella è stata partecipe di questa di questa cosa quindi è stato sicuramente raccontato è proprio così che nascono le leggende popolari perché vengono tramandate di generazione in generazione e ogni volta e ogni volta si aggiunge qualche particolare inesistente esatto tipo il telo bianco esatto però oddio io ne ho viste di robe dove praticamente per scacciare via il lato negativo di una persona l'anima i mortacci ma dove l'hai visto in che ambienti frequenti capita di leggere degli articoli dei giornali però si sa si sa non si sa come ma si sa che ti mettono comunque sempre qualcosa di bianco qualche telo bianco qualche lenzuolo bianco perché il bianco automaticamente ti conduce a al divino al cielo al paradiso perché sei vestito di bianco è vero mi rompete le palle che mi vesto sempre di nero oggi che te devi vestire di nero vabbè sei vestito di bianco lo sai tra l'altro che non c'entra niente col video scusate scusate ma ho saputo che Dada è l'angelo più muscoloso che esista serio? si serio applauso sono molto scettico poi su questa storia si per carità la regione musulmane andrà conosco magari vanno là e fanno i ritri tipo viziatori guelone moschene roba eccetera però non lo so come dite voi è sempre una storia che comunque viene tramandata di generazione in generazione in generazione in generazione in generazione ma poi dipende anche dal singolo individuo a cui succede può essere anche semplicemente uno scelerato che inizia ad urlare esatto punto tranne quel video orribile che mi ha fatto vedere di quell'incalciatore che si mette a fare i caprioli in quel modo assurdo quello assurdo porco possono essere delle 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 cospitazioni può essere c'è una spiegazione scientifica quello a quale come quando il giocatore dici come quando il boxer prende il pugno in faccia e incomincia a diventare pazzo si provarsi ma perché ti si attivano forse partire il cervello che sono dormienti infatti lui dice in quel video lì che abbiamo visto che lui casca con la testa appena casca per terra mi succede questa cosa che mi appazzisce allora quello del pugile è semplicemente per una lesione alla parte frontale del cervello ma lì ha preso una botta col gomito si vede no in realtà cade normalmente magari non lo so nella caduta si è preso una botta ma non lo so nel pugile è più probabile come cosa però più che altro fa delle cose che ma più che altro nel pugile però è una cosa che succede no ma la cosa strada di quel video è che fa delle cose che da da persona normale non riesce a farle non riesce a farle cioè non è che fa delle capriole mortali coordinate cioè cade all'indietro si rialza con chissà che forza da dove arriva è quello che fa impressione quindi anche se ha preso quella ipotetica botta al cervello come fa a fare quelle cose ma perché noi utilizziamo semplicemente la minima parte in percentuale tu non lo sai se usassi il 50% del cervello che cosa sarei singolo di volare dad è una delle poche persone sulla faccia della terra che usa il 70% del suo cervello è il 20% del pesce e con questa piccola frase ragazzi ringraziamo gli undici romani che hanno fatto un lavoro mediocre discreto potrebbe essere migliore ci sono state delle belle storie all'inizio diciamo che sul finale un po' floriana soprattutto cercava di arrivare il più possibile alla fine del suo lavoro io ringrazio qui l'osteopata Riccardo Dose grazie di cuore non mi sono presentato sono giovinco e sono molto forte ringrazio anche da Cangelo Gabriele che è venuto all'alto dei cieli oggi per portarci la pace grazie a voi grazie a te sono Daniel no ho tante passioni io ti ringrazio e ringraziamo eh però e ringraziamo Tommy Hass per aver Tommy Hass che è lo skater in voga del momento più in voga del momento più in voga del momento grazie di cuore per aver reso possibile tutto ciò mandateci le vostre storie paranormali in direct a me perché undici domani compreso Floriana che capiremo se te oppure non nella prossima puntata se lezioneranno e soprattutto mandateci dei video che avete vissuto e non quella roba che c'è è la madonna dei video che avete vissuto come fanno avere i video vedete le gambe nascoste delle robe sai che c'è stanno gli appartamenti che riprendono cose che vanno indietro alla motion capture delle anime dei mostacci tua o mandate anche dei video o se realmente che ci sono di cose cadute no a questo punto mettiamo a fare la reaction delle compilation top 10 ghosting allora facciamo così reaction ghost security cam ragazzi buon Natale non so quando c'è questo video buon Natale nel caso forse ci vedo dopo buon anno nel caso ancora dopo buona Befana buona Befana buona Pasqua buon Natale credete sempre in voi stessi ma soprattutto cose che non potete vedere né percepire punto voglio dire anche io qualcosa sì i sagajuia chi i sagajuia siate razionali nella vita ragazzi mi raccomando non fate come Riccardo che appena gli succede qualcosa urla siete razionali e credeteci e aspettatevi l'imverosimile io urlo proprio perché sono razionale e dico come cazzo è possibile sta cosa molto spesso la verità molto spesso molto spesso la verità è semplicemente nascosta nell'edazionale baje baje ciao